Noi Rodrigo Taddei, Rodrigo tre punti dovevano essere, tre punti sono stati contro questo Lanciano che all'inizio ha dimostrato una buona intraprendenza. Il campionato di Serie B è un campionato difficile, si può aspettare tutto da tutti, però la nostra squadra è stata concentrata come dall'inizio del campionato e oggi siamo stati premiati riuscendo a fare i tre punti che era il nostro obiettivo. Ottimo le ripartenze per il Perugia in contropiede che ha saputo sfruttare tutti gli spazi concessi dal Lanciano. Dopo aver fatto il primo gol loro sono sbilanciati un po', abbiamo avuto tante altre occasioni per chiudere il match e ripeto, Serie B è difficile, è un campionato difficile, va chiuso, queste partite quando hanno la possibilità di chiudere va chiusa perché dopo può avere delle sorprese. E adesso comunque sia ci aspetta una partita sicuramente non facile perché è vero che l'Ascoli non naviga in buone acque ma rimane comunque sia una trasferta insidiosa. Si, giocano in casa ma noi ci abbiamo tutta la settimana per preparare, prepariamo al massimo anche questa partita con rispetto ai nostri adversari come stiamo facendo fino adesso e cercare di fare il nostro meglio. Possiamo dire che finalmente sei tornato con il Perugia? Sono sempre stato qua, ho avuto un secondo periodo del primo anno un po' difficile, non lo so perché, non ho avuto tante occasioni. In questi anni all'inizio un infortunio mi ha lasciato un mese e 40 giorni fermo, adesso sono rientrato e spero di non ritornare più indietro e di essere a disposizione del gruppo e del mister. Bisogna dare atto sia al mister che a tutti i tuoi compagni che ti hanno sempre cercato, hanno sempre detto c'è Rodrigo Taddei, questo credo sia una bella dimostrazione. La fiducia che mi hanno dato per questo ringrazio e sono contento, sono contento di essere ritornato soprattutto senza dolore dell'infortunio che ormai è vecchio e spero di non ritornare più indietro e di pensare di essere a disposizione come al mio, non essere a disposizione fino alla fine del campionato. La tua collocazione tattica è meglio da centrocampista centrale basso oppure dietro alle punti? Mello in campo, a disposizione. Grazie. Prego.